Io credo che a questo punto stiamo entrando nel cuore delle informazioni. Iniziamo adesso con la parte informativa. Io volevo anche ringraziare l'Avvocato Canibus che si è aggiunto al nostro gruppo di lavoro proprio perché, come avrete capito, le nostre comunque non sono procedure banali. Sono procedure che anche quando siamo in presenza di quelle che sembrano le procedure più facili, in realtà sono procedure che sono comunque complesse perché coinvolgono molte persone, molti valutatori. Non soltanto noi, coinvolgono altri enti e molti altri settori regionali. Iniziamo la mia presentazione. Anche la parte normativa giuridica per noi è estremamente importante e varia di procedure in procedura. Allora, qui vedete i nomi di chi interverrà più tardi. Oltre a me ci saranno Marta Ballerini oggi non interverrà, però è presente. Federica Cianberlano, Elisa Furfar oggi non interverrà, Natalia Grifoglio, Luca Jacopi, Francesca Lupino. Interverrà invece l'architetto Roberto Navarra, che siamo contenti di avere qui dopo l'adegenza. Bruno Orsini non interverrà Francesca Panizzoli, ma ha contribuito, poi vedrete come, ad aiutarci nella sua funzione diciamo così più digitale. Con noi abbiamo anche Francesca Priano, la dottoressa Priano di Liguria Digitale, perché le tecnologie digitali in questo momento e nel futuro pensiamo che ci daranno una grande mano. Vedrete che poi il nostro percorso sarà un percorso lungo, tutte le procedure di cui noi ci occupiamo daremo i primi spunti, le prime necessità che abbiamo per un buon avvio di procedura. Dati i tempi, ovviamente sarà un qualche cosa un po' a volo d'uccello, ma questo non significa che non vi daremo spunti importantissimi per rapportarvi con noi. Microfono, sì, ok. Abbiamo preso quella della scorsa volta, abbiamo già fatto questo confronto con le pubbliche amministrazioni, quindi era un po' variata, ma va bene anche questa. questa presentazione. Allora, non è facile muoversi tra le nostre procedure. Questo è uno schema ancora in bozza di tutte le procedure che noi gestiamo e come vedete, dalla vecchia soggettabilità e via degli anni 2000, adesso siamo arrivati a una soggettabilità via, abbiamo tre opzioni di interlocuzione preliminare, al power, quindi la via non esiste più, esiste un power che quindi, come è stato già detto, ha l'ambizione di essere un procedimento unico, è un procedimento estremamente complesso. quindi quando approcerete un power, informatevi anche tramite noi bene, perché ha l'ambizione di non essere soltanto un parere di valutazione di impatto ambientale, ma rilascia tutte le autorizzazioni, le concessioni, nulla osta, i pareri, comunque denominati per la realizzazione e per la gestione dell'opera. soltanto alcune e puntuali autorizzazioni che devono essere date a livello esecutivo possono essere demandate ad un periodo successivo di cui però bisogna dare atto dei tempi nell'atto conclusivo di power. quindi un proponente che fa un power potrebbe il giorno dopo che ha ottenuto il nostro atto, se non ci sono ad esempio pareri di vigili del fuoco, comunque siamo riusciti già ad acquisirli, aprire il cantiere. ecco, questa è la complessità ma anche la facilitazione che ha un power, tutte le volte che un progetto viene sottoposto a via regionale, viene anche sottoposto a power. non c'è più la possibilità di fare via da sola, invece si fa sempre il power. Come capite sono procedimenti complessi perché noi dobbiamo convocare tutte le amministrazioni che hanno da dire qualche cosa sui vostri progetti. ma anche la soggettabilità diciamo che ha avuto nel corso soprattutto di questi ultimi anni un'evoluzione estremamente più complessa, se non altro perché ha dei tempi estremamente brevi. questi tempi estremamente brevi ce li abbiamo noi ma ce li hanno anche tutti i proponenti. caso specifico abbiamo detto anche con i colleghi di fare qualche caso diciamo che ci capita. su un'altra procedura noi chiediamo delle integrazioni, il proponente ci dice ma io sono in ferie a Natale, mi dispiace se lei è in ferie a Natale, dovrà far lavorare i suoi progettisti perché noi i tempi abbiamo dei tempi ormai sempre molto stretti per norma e per entori. per cui calcolate anche quando avviare le procedure, calcolatevele anche sulle vostre ferie magari. avanti ecco la scelta della procedura non è banale la scelta di una delle nostre procedure, qui avete neanche un assaggio di quelle che sono le caratteristiche di un progetto che dovete considerare quando scegliete la procedura, può variare a seconda della localizzazione, un progetto che normalmente sarebbe nelle tipologie di assoggettabilità alla via può diventare via power perché è in un'area protetta ad esempio, o perché in un'area sensibile a sensi del DM 30 marzo del 2015. Ma anche la tipologia progettuale può far cambiare la procedura, ad esempio attualmente il decreto 77 di semplificazione per tutti gli impianti di energie alternative ha previsto delle semplificazioni anche per quanto riguarda la via. non è facile neanche lì perché poi se leggete il decreto 77 e altri decreti li mettete insieme, confliggono, quindi anche quell'interpretazione non è banale. Altre caratteristiche del progetto, ad esempio abbiamo emanato delle linee guida per quello che riguarda le opere rientranti, le opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua perché rispetto al dettato europeo e al dettato nazionale ci sembrava di dover distinguere tra quelle che erano delle opere oggettivamente non da via, una difesa spondale, il ripristino di una difesa spondale rispetto, che ne so, ad uno scolmatore o ad un argine. Mi premeva segnalare un istituto che è stato recentemente introdotto nella nostra normativa a livello nazionale. Tutti gli articoli di cui parliamo sono tratti ovviamente dal 152 del 2006 e tutte le modificazioni che sono state introdotte. Questo perché noi ci riferiamo puntualmente al dettato nazionale. Molto spesso noi abbiamo, soprattutto per i progetti complessi, il problema delle competenze. Ci sono competenze magari nazionali che però sono residuali, ci sono competenze invece regionali che sono preponderanti. Il Ministero ha previsto questo strumento, che è lo strumento dell'interpello, in cui il proponente invia al Ministero la documentazione progettuale facendo o semplicemente una domanda nella quale si chiede il parere del Ministero. Notate che il parere del Ministero in questo caso è vincolante. Vedete che chi può proporre interpello sono le regioni, le province autonome, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria, le associazioni di protezione ambientale. In realtà il proponente normalmente si fa tramite con un'amministrazione. I comuni che sono interessati a dei progetti che ricadono magari anche in competenze statali fanno domanda in 30 giorni. Entro 30 giorni il Ministero esamina la pratica e in 90 giorni viene dato il parere definitivo, che ci fa anche da linea guida. Per cui non è solo un parere ad hoc su quella pratica, ma un parere che poi noi applicheremo anche in futuro. Nelle slide poi trovate naturalmente anche il link alla pagina del Ministero, che era ancora a Mita e adesso è Mase, dove trovate degli esempi degli interpelli già proposti e delle tematiche e delle risposte che sono state date dal Ministero. Attenzione a una cosa, non è che magari voi professionisti che ha detto ad un comune di fare un interpello e vengano sospesi i nostri tempi. No, le procedure vanno avanti. Se lo dovete fare, lo fate prima. Avanti. Le ultime cose. Ricordatevi per la vostra formazione, oggi ne parleremo un po' ma non in maniera approfonditissima, che l'ultimo decreto semplificazioni 77 ha portato numerosissime modifiche alla normativa di via. Quindi, riguardo alla soggettabilità di via per i tempi e la modalità procedurali, la consultazione preventiva, che è uno dei procedimenti opzionali, di cui poi parleremo, sui tempi. Ha introdotto la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, ne parleremo dopo di questo nuovo istituto. Per il PAUR ha specificato, perché erano abbastanza poco chiari, alcuni passaggi, ma sicuramente ha variato i tempi e alcune fasi procedurali. Quindi, da luglio dell'anno scorso, se non avete più letto il 152, rileggetelo. Ricordatevi che è stato specificato che non si applica il preavviso di rigetto alle nostre procedure. Quando io concludo una procedura, non ho l'obbligo, anzi, non lo devo fare per legge, di applicare il 10 bis del 241 alle procedure. Quindi non vi vedrete una lettera che dice, stiamo per rigettare il vostro progetto, avete 10 giorni per farmi le contradduzioni. No. Tutto quello che riguarda le valutazioni ambientali si svolge nell'ambito delle valutazioni ambientali. Dell'interpello ambientale, che è questa possibilità di interlocuzione con il Ministero in caso di dubbi, ve ne ho già parlato. E un'altra modifica ce l'abbiamo avuta ad agosto di quest'anno con il decreto aiuti bis che ha introdotto un'ulteriore procedura. Che è una via, un power che comprende anche la VAS e non soltanto la via. Ma oggi non ne parliamo perché è una procedura estremamente puntuale e applicabile soltanto in caso di decreto ministeriale che decide che alcune aree, che devono avere tutta una serie di caratteristiche che in Liguria per adesso non ci sono, individui l'ambito territoriale nel quale si possa applicare il power. Io adesso lascio la parola ai miei colleghi, direi che la prima è la dottoressa Lupino. Io intanto vi ringrazio, prendete respiro, siediti, fai quello che vuoi. Iniziamo a parlare della lista di controllo, giusto? Grazie.